Io non ci vado più là, perché tutte le volte che scavo, tutti uno, no? Io non saluto, ci accorso di toppe! Sì, perché vedo una testa e ci spaventano. Ah, se quando tu dici queste cose, mi chiede più di buona. Poi non vuoi sorridere. Uomo, se ti vede nel sole, poi non so se spesso la tengo dentro. Mamma mia, quanto sei bello, io ho stato un po' di un gelato. E' di tutto il gelato. Quanto viene in gelato? Quando lo chiami? Lui viene! Sì, basta, 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 basta. Ma ti posso prendere? Ma che ne puoi prendere? Quarantica, 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 quarantica! Sì, invece mi mandavo una, mi dicevo un altro, quando mi dicevo un altro, poi ci sentiamo che mi dicevo un altro. Sì, ma io ho fatto passare su quattro in generale, ho fatto passare su quattro in generale. Ma io ho fatto passare su quattro in generale, ho fatto passare su quattro in generale. Ma io ho fatto passare su quattro in generale, ho fatto passare su quattro in generale, ho fatto passare su quattro in generale. Ciao.